Ma non ci fate paura, non c'ho da leggere? No Il carry on, dai Si, gira la manovella, va Guarda che mani, sarei tutto proprio male Bleak Non esce fuori il pagliaccio, guarda eh Quanto devo stare così? Basta? Che senso c'ha? Non se sa I soliti foto, ok Quindi proseguiamo, c'è una batteria Attenzione, è una batteria Se spengo non si vede una cellula Ok, proseguiamo Si, interferenza anomala, ok Ma non ricordo sto pezzo C'era pure nella demo Apri Non si apre Boccata, se c'è qualcuno che ride Dica Lasci fare, su E con questi scherzi stupidi Ci fa mica paura, sa? Allora, andiamo verso la luce di qua Ok Ok, e quindi poi Ritorniamo lì Boh Bloccata, bloccata Dica Faccia la sua entrata in scena, please Eccola, eccola Jessica Jessica, venghi qui, venghi qui Aspetta Cambiamo la pila E non urla Porca puzzola Lascia fare Allora Aspetta un attimo Cerchiamo pile Allora, Garza Pila no, eh Troppa grazia Per carità Non te sforzà No, questo è il giardino della scuola Praticamente Ehm No Qui non c'è una ceppa Credo proprio di no Quindi si prosegue De là o de qua Ecco Documentiamo tutto Mi raccomando Ok Eh esatto Mi ricordo Mi ricordo Ma da là Scendono tutte le mani Oh God Jess 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 Le mort Le mort Si portano via Per noi No Non saprei Dica Classi di musica Dai Movi De Blink Damose 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 De qua Donnamo Boh De qua Poi Do se Damo De là Chiusa 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 Giù Ci ha perso? Ci ha perso? Ok Non so se ci ha perso Ma manco Come sogno Ci ha perso Porca Puzzola Blink Te devi Muove Te devi Da muove Muovite Te saluto Core Damose Scusate Ma questo è Canimento Posso dire Questa è Cattiveria Ma che village Che siete Proprio villani Damose Damose Chiudi 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 a chiave Chiudi Dai E così Fregati Porca puzzola Porca puzzola Per un soffio Oh mi scusi Non la volevo pestare Ok Ok Che è una ceppa Io non so se siamo al sicuro Qui Dio no Dimmi che non ci vede Dimmi che non ci vede Ma questo è Canimento Posso dire Damose Va Blink Damose Damose Damole qua No Sono andato E qua Aspetta Ricarichiamo La batteria Va No Porca puzzola Porca puzzola Mi scusi Lasci fare Vabbè Vabbè Ma Blake C'è un aspetto Come un brato Tipo Porca puzzola Porca Vabbè 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 VAMOSI 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 Chiudi, 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 chiudi la chiave, dagli così Dove dobbiamo andare? Del là? Del qua? Non si sa Mi sono incastrata, non ci voglio credere Dagli, dagli spigni, spigni, Blake, spigni, spigni Prego, spigni, Blake Damose, 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 damose Proprio in leggiatria Leggiatria leggerissima Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Ma questa? Ma chi è l'in? Ma sarà l'in? Quanto ci vuole a documentare però Ok No, non mi pare Ok, sennò interagiva, no? Vabbè Quindi, se damo? Da che parte? Non si sa però Interagiamo, vai Dai, Blake Dai, 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 dai Ok Mamma mia Quando mi inseguono Smaltisco Perché ho l'ansia che mi Chiappano Ok, dobbiamo andare da qua Devi documentare? Meglio di no, guarda Lasciamo quello Via, via Ah, shit Devi documentare Certa roba Come dire Ti la fai? Ok Ma se spegniamo Beh, ci si vede abbastanza Vai, risparmiamo batterie Come dire Ok Ok, c'è un documento Vediamo Vabbè, Dio sa ciò che ho fatto Va bene Abbiamo documentato Sento rumori Fateci Fateci ripienare un attimo Però, cioè Posso dire? Ah Aspetta un attimino Visto che c'è stamo Sì, ho capito Vediamo un po' Il materiale è girato È un bel po' Che non vediamo Allora Prima questa Ok Successivo Qua non si riproduce Una ceppa Tutto quello che riguarda Jessica Non viene riprodotto Non si sa Successivo Vabbè, certo Non avresti potuto salvarla Ah, ma vedi Il testo Leggibile così Ma baffalo Vabbè, abbiamo visto tutto Sì, questo non l'abbiamo visto Va bene Testo Leggibile Ok Possiamo proseguire Allora Abbiamo due batterie Va bene No, metti giù Vai, risparmiamo Le pile Allora Sessione Sessione Vediamo se c'è qualche pila Blake Sì Sì Vedi 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 Figa Ita Figa Ita Allora Scala O porta La porta è chiusa Fuori una Direi proprio Scala Senza ombra di dubbio Dove siamo qui? Non c'è sa A dove stiamo La finestra non si può aprire La porta non si può aprire Forse si può aprire questa Ok No Capuzzola Ma dai Ma non si può Ma come si fa Ma no Ma come è giusto Questo Ma dai Dai Damose 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 Non se da Non se da No Ok Allora Scala 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 Non l'avevo vista Scala Damose 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 De qua Giù Giù Vai Dai Blake Dai Blake Dai Blake Tirate su Salta Salta Ma che pepega Vai Blake Dai Salta Damose Giù 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 Damose Porca Puzzo Ma che fanno Torniamo indietro All'altra parte Non saprei No Non mi pare L'altra parte Questa Non lo so Ma non lo so So solo Che ci seguono Aia Corcone Per poco Attenzione Siete veramente Villani Posso dire Che cattiveria Con che cattiveria Damose De qua Non lo so Siete qua Vai 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 Dobbiamo fa Interagisci Interagisci Non lo so In qualche modo Interagisci Dai Blake Dai Blake No Vai giù Blake Vai giù Vai giù Vai giù Vai giù De là De qua De là Dove 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 De là De là De là De là De là Damose Damose Leggiatria Damose Leggiatria Mica tanto Ma insomma Entra 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 Porca puzzola Si può chiudere a chiave No Non si può chiudere a chiave Porca puzzola Qui c'è qualcosa Una tregua Grazie Una tregua Così ripiamo Un attimo Viato Non si ritroviamo Davanti Guarda Chiudi Va Ecco Si può chiudere a chiave No Ti pareva C'è qualcosa Qui Batteria Grazie Benda Aridaglia Allora Fammi vedere In posto Ci abbiamo bisogno Di Benda Al momento Non ti serve Ok Si lo so Che dobbiamo Raggiungere la cappella Ripiamo Un attimo Fiato È tutta stanzia Quando Ci inseguono Allora Facciamo Facciamo Un attimo Il punto Birre Non se ne possono Beve Questo è Il macellaio Quindi Penso Che possiamo Proseguire Di là O Se porte No 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 Se portano A sto Punto Eh però Ci vorrebbe Essere Qualcosa Di interessante No Non c'è Una Cipa Vabbè Proseguiamo Di là Va No